Sono Massimiliano, sono capocantiere da due anni per l'impresa Taddei S.A. di Lugano. In questo momento stiamo facendo la scuola di Vernate, stiamo gettando il tetto dell'edificio locale Asilo e poi dalla parte di sinistra abbiamo l'esecuzione degli uffici di due piani ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.